Come potete vedere dal mio vestitino, saremo catapultati nell'atmosfera anni 50 di un film che ha fatto ballare un'intera generazione. Hanno rifatto in mille modi, l'hanno portato in teatro, hanno fatto dei musical, ma solo noi al St. Anthony Talent Show abbiamo gli interpreti originali, belli come se non fosse passato neanche un giorno. Signore e signori, John Travolta e Olivia Newton-John in Gris. Grazie a tutti. 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 No, 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 no. 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 No, 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 no. No, no, no.